Prende il via il premio Terme Torretta, la corsa 3, quarta e quinta di questa sera con l'1 L'Angelo Azzurro, col 2 Lobac, 3 Mike, 4 Ippolito Cette, 5 Nastro Nascente, 6 Loreto De Sant'Anna, 7 Obama Di Cielo, 8 Miracle BF, 9 Million Erdeni, 10 Orion Tav, 11 Idolo Del Nord, 12 Lupus, 13 Leo Del Sebino, 14 Ninguno, 15 Nubble, 16 Olympia Bailey. Ippolito Cette è il favorito contro Lupus, questi i più giocati quando la macchina si porta sulla retta opposta pronta per staccare, sbaglia Lobac, l'Angelo Azzurro con Mike, poi Ippolito Cette sbaglia Nastro Nascente, parte molto bene Idolo Del Nord, con Ippolito Cette che si porta su l'Angelo Azzurro e su Mike che riesce a sfilare sull'Angelo Azzurro e va al comando dopo una spesa in 14 e 4. Mike si ripresenta su Ippolito Cette, c'è un 29 per la prima frazione per i primi 4, con Mike che si ripresenta su Ippolito, Idolo Del Nord in terza posizione alla corda, Lupus in seconda pariglia che segue lo scoperto Loreto De Sant'Anna, in terza corsia c'è lo scatto di Orion Tav che prova ad andare di fuori scoperto a Mike, 16 e 1 per il paletto con Orion Tav che affianca Mike, Olimpiabele rimane in terza posizione, in terza ruota con Mike al comando sulla curva, di fuori c'è Orion Tav, 15 e 3 per la frazione con Mike al comando, Orion Tav all'esterno, di dentro Ippolito Cette, Olimpiabele che è riuscita a prendere scavaggio in corda, però sbaglia Loreto De Sant'Anna, in terza pariglia c'è Lupus al passaggio con il tentativo di Ninguno in terza corsia sul 14 e 9, si affronta la curva con il tentativo di Ninguno, sbaglia Olimpiabele con Orion Tav che preme su Mike, numero 16, Olimpiabele squalificato, A questo punto viene via anche Lupus, 15 e 9 sulla retta opposta alle tribune, Ninguno mette pressione a Orion Tav che a sua volta pressa su Mike che rimane lì, Lupus che prova a cercare spazio con Ninguno che affronta la curva al comando, 14 e mezzo, Ninguno prende due lunghezze di vantaggio nei confronti di Lupus, Lupus che prova a inseguirlo, trova l'aria anche Obama di cielo e ancora Nublé, si affronta la retta d'arrivo dopo il 15 e 2 con Ninguno che prova a scappare su Lupus, Obama di cielo e Nublé, Ninguno vince di potenza su Lupus, Obama di cielo, Nublé per il quinto posto, il numero 11, idolo del nord, grande prova di forza di Ninguno che con un 44 e mezzo per gli ultimi 6, 1,15 e 2 la media al chilometro, viene a vincere di prepotenza questa tris quartè quintè con Beppe Lombardo Junior che vince alla grande con Ninguno per il secondo posto, il numero 12 Lupus al terzo, il numero 7 Obama di cielo al quarto, il numero 15 Nublé e al quinto con grande sprint finale, il numero 11 idolo del nord, vince Ninguno con Beppe Lombardo Junior, i colori sono ovviamente della scuderia Bello Sguardo, il team Lombardo SRL al training, la quota di Ninguno è di 17,15, mentre rivediamo il replay con Ninguno che la fa da padrone su Lupus, vince alla grande Ninguno, Beppe Lombardo Junior, questo premio Terme Torretta, corsa a tris quante quintè, ripetiamo i numeri, 14 per il primo, 12 per il secondo e per il terzo il numero 7, quindi 14, 12, 7 per la combinazione tris, 14, 12, 7, 15 per la combinazione quartè, 14, 12, 7, 15, 11 per il quintè, Ninguno, e Beppe Lombardo Junior per la scuderia, Bello Sguardo. Bene, grazie allora a Milco Frati, 1,15, 2 la media al chilometro, Grazie a tutti.